Ho solo una domanda oggi. Credo tu abbia parlato di aspettative. E sento che a volte tendo a essere troppo inclusiva nella società. Oh, che significa troppo inclusiva? Mi attacco troppo alle persone intorno a me. No, 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 quella non è inclusione, è essere esclusivo. Vedi, se mi attacco solo a te in tutta questa folla, significa essere esclusivo o inclusivo? Esclusivo. Sì, non dare etichette sbagliate chiamando l'esclusività inclusività. È un guaio. Voglio solo sapere come posso assicurarmi di liberarmi dalle aspettative che ho verso le persone e di non lasciare che qualunque opinione abbiano su di me mi entri in testa. Ci sono due aperture che permettono alle cose di entrare nella tua testa. Queste due. Possiamo fare dei tappi per le orecchie Isha, se vuoi. Non sapevo che ce ne fosse la richiesta. Il nostro dipartimento artigianato può creare dei tappi per le orecchie Isha, in vero cotone biologico, di legno, oppure solo arachidi, due arachidi. Tappi per le orecchie altamente proteici, possiamo pubblicizzarli. Ora, ciò che chiami attaccamento è una conseguenza naturale dell'esclusività. Nel momento in cui scegli tra l'uno e l'altro, rimanerci aggrovigliato è naturale. Vedi, lo abbiamo già visto oggi. Accettiamo sia l'etame che il frutto. Ma quando si tratta di mangiare, scegliamo il frutto. È questa la scelta che facciamo. Quando si tratta di attività fisica, scegliamo. Ma quando stiamo solo seduti qui, dov'è il bisogno di scegliere? Per un'attività specifica, vengono fatte delle scelte. Ma per il resto della vita, non c'è nessun bisogno di fare scelte in ogni momento della tua vita. Inclusività significa questo. Inclusività non significa che hai perso il tuo senso del discernimento. Hai il tuo senso del discernimento. Il tuo senso del discernimento è utile solo per compiere un'azione. Non per essere qui. Per essere qui, non hai bisogno di essere discriminatorio in alcun modo. Per essere vivo. Se discrimini, non funzionerà. Ma per agire ti serve discernimento, altrimenti non puoi agire in modo sensato. Quindi, questo problema di attaccarsi o attaccarsi troppo a qualcuno porterà naturalmente all'altra conseguenza di provare profonda avversione verso molti altri. Vedi, per bilanciare il tuo cosiddetto amore per una persona dovrai avere una profonda avversione nei confronti di molte persone. Non le puoi sopportare. Per favore, osserva attentamente e vedi, è così che funziona. Se le persone verso cui provi un'avversione potresti non notarlo, a meno che non ti capitino intorno. provi un'avversione, ma siccome non ti sono mai venute vicino, non la senti. Ma se capita che vengano qui, la sentirai, perché questo bilanciamento sta sempre avvenendo. Ora, le tue aspettative nei confronti delle persone non riguarda solo le persone, è per tutto. Qual è la fonte di tutta la sofferenza umana sul pianeta? La vita non accade nel modo in cui voglio, penso che dovrebbe accadere. C'è qualche altra causa? Chiedo. La vita non accade nel modo in cui penso che dovrebbe accadere. Questa è l'unica fonte di sofferenza nella vita umana. Non è così? Dimmi. È più facile cambiare il tuo modo di pensare o il mondo? Cambiare il tuo modo di pensare è molto facile, non è così? E prima di tutto, ora, quando ciò che pensi è così importante per te, hai preso il controllo di questa facoltà di pensare? No, sei in uno stato di diarrea mentale. Se tutto ciò che succede nei tuoi pensieri si avvera nella tua vita, sei finito. Fortunatamente, non si sta avverando. La mia benedizione è possano i tuoi sogni non avverarsi. Perché, visto il modo in cui sogni, se tutto si avvera, sei finito. Perché le tue aspettative derivano da un'immagine molto limitata della vita. Se vuoi che la tua vita renda al massimo, anche nella vita materiale dico al massimo, non parlo di una qualche dimensione spirituale, è solo nella tua vita materiale. Se vuoi rendere al massimo in questo mondo, nessuna aspettativa. Conosci la meditazione Shunya? Nessuna aspettativa. Nessuna aspettativa non significa che non hai un orientamento. è solo che ogni momento non vai calcolando. Oh, non ho ottenuto ciò che voglio, non ho ottenuto ciò che voglio, ciò che voglio non è successo. No, è solo che vogliamo muoverci in questa direzione. Quanto lontano andrai dipenderà da quanta benzina hai, non è così? E se hai aspettative, stai sprecando tutta la tua benzina solo mandando su di giri il motore tutto il tempo e non andrai lontano. Ti è successo che tutte queste aspettative prendessero il sopravvento perché fin dall'infanzia le persone chiedono all'età di tre anni, le persone chiedono dimmi cosa diventerai? Diventerai un medico? Diventerai un ingegnere informatico? Qualche stupidaggine. All'età di tre anni le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei loro figli sono in buona parte così realistiche e stupide il più delle volte. Non va bene né per loro né per i bambini e in molti sin dalla vostra infanzia coltivate la stessa tendenza. Facciamo questo con la vita. Vedi, tutto questo problema è perché la felicità è una cosa che appartiene al domani. Capisci? Le tue aspettative hanno una presa così potente su di te perché la felicità è una cosa che appartiene al domani mai all'oggi perché solo se questo questo e questo succede sarò felice. Ora, man mano che diventi più infelice perché questo questo e questo si allontanano un po' di più ogni giorno invece di avvicinarsi si allontanano man mano che diventi più infelice il potere delle aspettative diventa sempre più forte. Adesso diciamo che sei davvero beato ma vuoi che questo succeda? L'abbiamo inseguito domani invece di essere più vicino è più lontano. Non creerà nessuna grande sofferenza non lo farà non creerà nessuna sofferenza perché tu sei gioioso. Quindi senza giustare questo stai cercando di fare delle cose nel mondo. molto tempo fa sembra che Krishna abbia detto Yoga Stahakuru Karmani che significa prima stabiliscite nello yoga poi agisci ma ora ha intrapreso la tua azione nella confusione quindi viene lo yoga quindi stiamo cercando di aggiustarlo. Sei ancora giovane fai questo dimentica ciò che vuoi nel mondo da te stesso dalle persone e dal mondo ciò che vuoi lascialo cadere prima stabilisci questo che ciò che succede dentro di te è determinato da te nessun altro che te fai quest'unica cosa e basta naturalmente sceglierai di diventare piacevole quando sei molto piacevole diecimila cose non sono comunque successe nella mia vita e allora con entusiasmo gioioso le rincorrerò e le probabilità di realizzare queste aspettative sono molto migliori se non succedono che diamine importa comunque perché la mia esperienza dell'essere qui è meravigliosa in qualsiasi modo senza giustare i fondamentali cerchiamo di scappare via non abbiamo giustato questo ma cerchiamo di portarlo da qualche parte è un guaio se vuoi guidare la tua macchina devi prima vedere che si è aggiustata per bene due ruote sono allentate è sul creek ora provi a guidare sai che sarà un disastro sei ancora giovane non c'è bisogno che niente succeda nella tua vita in questo momento questo è un tempo in cui stabilire te stesso non è il tempo per guidare se guidi prima di aggiustare le ruote sarà doloroso e disastroso non fare questo te stesso è un tempo